Allora, forza, ci hanno detto che in tre minuti dovremmo raggiungere il livello che ci serve. Seduti tutti, vi chiediamo di sedervi. E comunque volevo ricordare che le due automobili che ho chiamato prima, sono un parcheggiatto vicino alla chiesa, c'è un incendimento di accesso, che l'ho detto tu. Ma le vedevi? Passeremo col cerchio, e se si scriserà, non metto un'altra. E se poi mi ricorda, se la macchina c'è un posto e non si è avuto. E volevo ricordare qui, che io sia un paio di chiave, che dovrà prendere un bisatto con le mani. e lo dovrà poi mettere nel secchio, che il compagno di contrada è fuori qua, no? E così. Ecco. I bisatti sono andati dentro. Adesso gira. Allora, se il bisatto esce, o mi cade per terra, non vale, eh? Dovete ributtarlo. Allora, aspettiamo un po', che nel secchio vanno ributtati dentro, eh? Allora, il tempo è dieci minuti. Attenzione che il fischio si parte. Vi chiedo di giocare con lealtà anche questo gioco, senza fare quasi un sogno. Sì, magari chi non c'entra niente col gioco, se si sposta, se sta più lontano possibile, è la possibilità a tutti di vedere quel che si riesce a vedere. bene, Luca, dai via. Sì? Sì, è entrata libera, come vuoi dire? Sì, 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 sì. Entrata libera. Va bene. Possiamo iniziare? Per piano, ancora poco c'è ancora. Una volta, eh. Sono pronti? Gli udici stanno controllando. Ci siamo, Luca? Qui potete incitare. Pronti? Luca? Inizione? Volo! Via! Uno alla volta, con calma. Un bisatto solo alla volta, con calma. E quando vedete, esce uno, dentro l'altro, in modo che ci siano sempre cinque persone dentro. Ovviamente, vince chi ne prende di più. Questo è scontato. Molto bene. Ora, quello che volevamo, questo gioco. Molto bello. è un gioco. È un gioco che vuole simulare il fatto che una volta i nostri assiumi erano pieni di pesce. E quindi, ecco, questo è il gioco che vuole ricordare quei più giovani che non vedranno mai più queste cose, che esistevano oltre fiumi pieni di pesce, con poca acqua. E la gente andava a prendere il pesce a palpetto. Così si dice. Quindi questo è il gioco del palpetto dei bisatti. Ecco. I bisatti sono le unguilde. Cosa? Facci a provare a capire? Sì. Cos'è il bisatto? Che di più furti, lui giapeva quella sabbia. Cosa? Io potevo la sabbia del mio canale e lo noto. Esatto. Volevano fuori. E si impirava quella sabbia. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vai, vieni. Vai, vieni. Dai, macina. Se fosse un caldo, anche per poter essere più male, però... Sì, dato più. Ma, però, però, la mano. La Laura non deve piacere. Quindi un genito in la Giappana è in pirale. Prego. Perché su, sul palco, veramente. Vai, vai. Ma... Pesante il passo. 3 cambiene C� non pensi Eh comeuggia Quanto avrai all'interno? E' basso Bene Siamo verso la fine, credo, perché lo mancherà poi tanto. Luca. 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 Siamo mai agli sgoccioli, vanno un minuto e mai sgoccioli, un minuto e mai sgoccioli. E poi avremo, si è ben assurato quest'anno, è ben assurato. Vai brava! Aglio qua, aglio qua! Vedo che manchi un poco, non vedo nulla. Un minuto scarso, un minuto scarso. Ma che ne ancora dai? Mi sentite? Mi sentite? Vieni ancora così! Vieni ancora così! Vieni ancora così! Vieni fuori! Vieni ancora! Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? E si? E' un po' più grosso stanno? Pregate! Puoi nuovo vi lascio siara! Allora lì, lì lì... Oh lì! Arrivi lì se lì, lì, lì lì! andiamo invece piena! Anche lei, lì, lì, lì? L'abbiamo visto! E vai! L'abbiamo visto! Attenzione che il tempo sta per terminare! Oh! Attenzione al Fischio... Attenzione al Fischio... Attenzione al Fischio... Attenzione al Fischio... Grazie.